ciao benvenuti sul canale di grazie potazzoli vi ricordo di iscrivervi al mio canale per sostenermi di condividere questi video di cliccare sulla campanellina oggi vi faccio una recensione dei pilati che ho acquistato da www filati discount puntocom ho acquistato cinque sti gomitoli di fiocco cotone sono gomitoli da 50 grammi è un cento per cento di cotone e questo è color menta è molto bello poi ho acquistato anche il fiocco color limone 50 grammi composto dal 100 per cento cotone e questo è il colore del limone poi ho acquistato ancora il fiocco color arancio sono gomitoli a 50 grammi e la lunghezza ai di 125 mitri ognuno si utilizza un uccinetto da 2,53 e ferri da 3 3,5 guardate come sono belli questi tre colori li abbineremo per realizzare qualcosa di bello sono molto belli sono color menta limone e arancio e questi cotone fiocco poi ho acquistato il cotone ecologico color corallo è un 80 per cento di cotone è un 20 per cento di poliestere sono gomitoli a 50 grammi e questo ancora un corallo come uccinetto si utilizza il 2,50 e il 3,50 mentre i ferri del 3 e del 4 questo è il colore corallo poi ho acquistato anche color smeraldo sono sempre gomitoli da 50 grammi sono sempre gomitoli da 50 grammi sono molto belli e questo è il cotone ecologico smeraldo e il cotone ecologico corallo questi sono i gomitoli a 50 grammi e con il color corallo e il color turchese scusate il colore smeraldo ho acquistato anche questo bellissimo color turchese sempre cotone ecologico da 50 sono gomitoli da 50 grammi è un 80 per cento di cotone è un 20 per cento di poliestere sono dei colori magnifici molto belli poi ho acquistato il positano di questo color color fanta bellissimo questo color fanta sono gomitoli da 50 grammi e si utilizza lucinetto da 3 4 e 5 e ferri numero 3,5 4,5 composizione 70 per cento di cotone penso con cotone penso che sia un 25 per cento di poliestere è un 5 per cento a f non so cosa sia non ho idea di cosa sia e poi con il color fanta ho acquistato questo colore stupendo acqua marina sono anche abbinabili insieme secondo me il color fanta e con l'acqua marina sono molto abbinabili insieme secondo me a realizzare qualcosa anche insieme o separatamente dato che sono due stupendi colori e ogni gomitolo è composto da 50 grammi ogni gomitolo è 120 metri metri questo è il color acqua marina e questo è uno splendido colore fanta e questi sono il positano poi vediamo un po qui poi acquistato il gossi color perla questo color perla sono gomitoli da 100 grammi e anche questo è il cotone ecologico riciclato 100 grammi un certo per cento di cotone sono di 100 grammi ogni gomitolo e sono di 150 metri circa si consiglia di utilizzare lucinetto del 3 o del 4 e i ferri del 4 o del 5 questo è il color perla io l'ho anche acquistato questo color blu poi ho acquistato anche il gossi corallo che è molto bello sono molto colori molto belli e anche il turchese questi sono i quattro colori che io ho acquistato ogni gomito ogni gomito lo sono 100 grammi e equivale a 153 metri circa e questi anche sono molto belli come colori poi ho acquistato anche il gomitolone avevo acquistato il color avio e questo è il color lampone guardate che stupendo color lampone è molto bello molto vivace questo gomitolo è un gomitolo di 500 grammi è un filato 100 per cento acrilico si utilizza ferri dal 3,5 e 4 e uccinetto del 3 o del 4 e questo è il gomitolone è molto bello questo colore lampone vi ripeto ho acquistato questo gomitoloni top 500 color lampone che è un 100 per cento acrilico sono 1500 metri come elaborazione si utilizza ferri del 3,5 e 4 o uccinetto del 3 o del 4 poi il gossi color perla il gossi color corallo il gossi color corallo blu e turchese questi sono gomitoli da 100 grammi ognuno 100 grammi equivale a 153 metri circa come elaborazione i ferri si utilizzano ferri da 4 o del 5 uccinetto del 3 o del 4 questi sono i colori che io ho acquistato ma ci sono tantissimi altri colori è un 100 per cento cotone il positano che trovo molto bello questo color acqua marina e il color acqua marina acqua marina sono gomitoli da 50 grammi equivale a 120 metri di filato questo è il positano sono molto belli poi questo è il cotone ecologico color corallo sono 50 metri 50 grammi scusate ogni gomitolo a cotone ecologico ecologico 100 per cento reciclato questo ancora un corallo poi abbiamo il turchese e abbiamo il color smeraldo questi tre colori ho acquistato e sono gomitoli a 50 grammi sono 125 metri ogni gomitoli ogni gomitolo per lavorarlo l'ucinetto del 2,5 o del 3,5 mentre sono consigliati ferri del 3 o del 4 questo è il cotone ecologico e poi ho acquistato questi splendidi tre colori il color menta il color limone e il color arancio questo è fiocco cotone a un certo per cento di cotone e sono ogni gomitolo 50 grammi e questi sono i gomitoli che ho acquistato splendidi splendidi colori sono splendidi colori come potete notare ma sul sito hanno altri splendidi colori stai Grazie. Vi sto facendo una bella carellata per mostrarvi i colori di questi filati che sono fantastici. Grazie a tutti. Vi mando un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!